La mia voce è così in marcia perché mi sono appena svegliata, comunque vi porto in una giornata con me per nessun motivo, mi sono svegliata, skin care, poi colazione, mi sono resta a studiare, sono finita, va bene, mi è andata in mio palazzo, un po' creepy, volevo solo mostrarvelo, mi sono preparata per andare in palestra e all'uscita abbiamo pranzato con una piedina, poi sono tornata a casa per ristudiare nuovamente e poi mi sono fatta una doccia e non la mi sono resettata, sono riuscita a prendere altre cose e ritornata a casa. Non mi sono riuscita a fare le unghie, ci ho messo una vita a scegliere il colore e comunque sono riuscita a sbagliarlo, raga, perché non mi piacciono, vabbè, guardate questo, ma non so, mi devo ancora abituare. E poi siamo uscite a fare aperitivo, doveva essere un aperitivo easy, ma in realtà abbiamo bevuto tipo tre spritz, abbiamo cambiato un sacco di locali diversi, ci hanno pure offerto i b-shot, ma molto materiale si è cancellato perché non ho più spazio sul telefono, vabbè, ciao.